Io lavoro al bar di un albergo a ore, porto sul caffè a chi fa l'amore, vanno su e giù coppie sempre uguali, non li vedo più neanche con gli occhiali. Ma sono rimasta come una cretina, vedendo quei due arrivare un mattino puliti, distinti sembravano finti, sembravano proprio due santi dipinti. Mi ha inchiesto una stanza, gli ho fatto vedere la meno schifosa, la numero tre. E ho messo nel letto i lenzuoli puliti, poi come San Pietro gli ho dato le chiavi, gli ho dato le chiavi di quel paradiso e ho chiuso la porta sul loro sorriso. Io lavoro al bar di un albergo a ore, porto sul caffè a chi fa l'amore, vanno su e giù coppie sempre uguali, non li vedo più neanche con gli occhiali. Ma sono rimasta come una cretina, aprendo la porta in cui il grigio mattino se ne erano andati in silenzio perfetto, lasciando soltanto due corpi nel letto. Lo so che non c'entro, però non è giusto morire a vent'anni e poi proprio qui. Me li hanno incartati nei bianchi lenzuoli e l'ultimo viaggio l'han fatto da soli, ne fiori, ne genti, soltanto un furgone, ma là dove stanno staranno benone. Io lavoro al bar di un albergo, porto sul caffè a chi fa l'amore, e lai, 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 lai. Sarò un'altra dire ma chissà perché, lai, 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 lai. Non mi va di dare a nessuno le chiave delle lettere. Grazie a tutti